Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Frabole Sanco e devo farvi le mie scuse. Sto registrando dal mio ufficio perché, insomma, non sapevo, lo sto facendo all'ultimo questo video, perché mi sono scordato di registrare il video per oggi, perché lunedì, perché non lo sapesse, sarebbe il giorno in cui recensisco i cittadini, ma mi sono scordato di registrarlo, quindi oggi esce sto video e prossima settimana vedremo il prossimo cd. Perdonatemi, ho fatto un grosso errore e mi impiccherò, quindi niente più video sul canale, anzi no, ci sarà un clone che mi sostituisce, quindi state tranquilli. Va bene, niente, mi scuso di nuovo, ciao ragazzi, scusate, alla prossima.